Benvenuti in News Cronaca. Quest'anno al Grande Fratello L'Attenzione si è concentrata su Massimiliano Varrese, che ha rischiato più volte la squalifica. Ecco perché Massimiliano Varrese non viene mai squalificato dal Grande Fratello. Prima di continuare iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Recentemente, Alfonso Signorini ha rimproverato duramente Varrese, minacciando la squalifica se non avesse moderato i toni con Beatrice Luzzi. Signorini ha richiamato Varrese sull'importanza di evitare comportamenti che potrebbero essere interpretati come abusi di genere, soprattutto nei confronti delle donne. Varrese si è scusato con Bea, il pubblico e con Alfonso ma ha difeso le sue azioni, sottolineando che non intendeva mancare di rispetto a nessuno. Ha promesso di lavorare su se stesso e di dimostrare con i fatti che può migliorare. Nonostante la severità del richiamo, Varrese è stato ammonito anziché squalificato, suscitando speculazioni sul fatto che la sua permanenza all'interno del reality faccia comodo al programma. Le reazioni del web sono state miste, con alcune personalità del grande fratello come Salvo Veneziano e Filippo Nardi che hanno confrontato la situazione con episodi passati di squalifica per affermazioni meno gravi. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.